ciao a tutti allora oggi vabbè sono su clever bot e vediamo di fare qualche domanda intanto tanto vediamo se mi punteva il microfono ciao clever bot come stai cominciamo benissimo va bene come stai come stai allora te lo chiedo adesso come stai clever bot guarda una discussione e che dico ti piace dall'italiano al tedesco complimenti complimenti a lei ok ciao 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 ciao